E' con me che dovete parlare, Tommy DeVito. Se non c'ero io, finivamo tutti con una pallottola in testa. Con amici così, cambiati il cognome in Sinatra. Io diventerò grande come Sinatra. Vorrei presentarvi una mia nuova scoperta. Frankie Valli. Le avevo sentite tutte, ma mai una voce come quella di Frankie Valli. Voglio assolutamente scrivere per questa voce. Frankie, il mondo sentirà quella voce. Volete che produca le vostre canzoni? Trovatevi un nome e un sound e combineremo qualcosa. Senti, abbiamo qualcosa per te, chiaro? Prepara la pista, raddoppieremo la voce di Frankie e esploderà dalla radio. Non è un sound diverso! Adoro questo disco! Facciamo tutto insieme. Quanti anni avete avuto? Insieme o separatamente? Avete successo? Raidischi, la tv, le apparizioni dal vivo? Tommy è nei guai. Perché non è venuto lui? Il fatto è che i guai erano cominciati già da te, no? Tu hai la voce, io le canzoni. Ci mettiamo insieme. Secondo voi Frankie avrebbe dato il ben servito a Tommy? È questo che pensate? Non siete degnuggersi. Frankie, è il tuo momento. Ti chiedono qual è stata la svolta. Noi, quattro ragazzi sotto un lampione, la prima volta che abbiamo creato quel sound, il nostro sound. Ecco la svolta. Signore e signori, Four Seasons! Noi, quattro ragazzi sotto un lampione, la prima volta che abbiamo creato un lampione, la prima volta che abbiamo creato un lampione.